ciao a tutti come avete appena visto all'interno di questo tronco di questo livo morto purtroppo in puglia ne sono morti tantissimi ho trovato uno sciame di api che segue il canale sa che anni fa avevo questa passione perché il mondo delle api è veramente interessantissimo e avevo fatto anche un video sul candito come inutile le api perché avevo preso avevo costruito due alveari avevo preso una famiglia di api avevo comprate uno sciare ma poi lavorare in montagna per farla breve mi sono morte poi mi sono trasferito e non ho più potuto portare avanti questo hobby e ho sempre cercato sciami in giro perché loro di solito quando trovano delle fenditure case vecchie alberi morti e vi dicendo creano una casa all'interno che erano loro sciame loro alveare una volta veniva spaccato il tronco ho rubato il miele e distrutto l'alveare quindi lo sciame invece il nostro obiettivo sarà quello di raccoglierlo e poi diciamo crescerlo come fosse la nostra famiglia quindi adesso non ci resta che costruire un alveare e poi la cosa difficile sarà convincere le api a trasferirsi all'interno ma un problema alla volta bene mettiamoci al lavoro per costruire il nostro alveare ci tengo subito a dire che non sono un esperto di api sono un appassionato di natura ho letto molto nei tempi ha avuto anche la più prima non è andata bene poi me l'ho trasferito vi dicendo che tornando all'alveare di oggi allora il consiglio che vi posso dare se lo fate così per hobby vi conviene lo stesso partire con delle misure standard perché così in futuro se vi appassionate con questa cosa delle api avete già tutto a misura e potete comprarvi gli alveari quelli da montare che vi consiglio è sempre la cosa più facile e sono già predisposti il costo sicuramente economico a meno che non avete tutta l'attrezzatura per farlo se come me vi arrangiate per farne uno così però per provare va bene se invece volete farlo come lavoro vi conviene comprare già quelli standard sulla base di questo io ho preso questo telaino che ci servirà come modello per le misure allora io farò un alveare solitamente sono da 8 da 10 da 12 più grossi ma siccome li fanno anche da 6 che sono quelli per il trasporto delle api io lo farò soltanto da 6 perché questo alveare sarà più un alveare da osservazione per far vedere cosa accade all'interno così per divertimento per me e per salvare queste api che ho trovato quindi un pezzo molto importante è questo distanziatore di telaini che ne sono due se ne mette uno per lato perché cosa succede poi lo montate e poi vi appoggiate telaini sopra così perché a differenza nostra le api sono state create con delle regole ben precise non hanno la libertà come noi che pensiamo di sapere tutto e facciamo sempre danno loro hanno degli standard se all'interno dell'alveare lasciate uno spazio sotto i 7 mm loro sigilano perché per loro è uno spazio inutile che potrebbe portare muffe cose varie quindi lo chiudono col propoli loro sigillano tutto quindi anche noi adesso che andiamo a costruire la nostra arnia se non è proprio sigillata perfetta poi loro dall'interno stuccano tutto e viene una meraviglia a noi serve non lasciare spazi grossi mentre se gli spazi all'interno superano i 9 mm loro decidono di creare un ponte con la cera per continuare a produrre il miele perché loro ottimizzano il tutto quindi noi per evitare che poi non riusciamo a tirare fuori i nostri telaini perché loro li hanno ha messo la cera in giro per avere altri spazi per mettere il miele conviene cercare di lasciare una media agli 8 mm di spazi interni all'interno del nostro alveare quindi oltre ai distanziatori molto importanti io mi sono procurato anche la porta questa come dicevo è una porta per degli alveari da trasporto quindi per 6 frame non mi vengono le parole inglese per 6 telaini telai ve la consiglio perché è molto comoda se dovete spostare il vostro alveare se dovete fare qualche trattamento qualcosa così sei sicuri che voi non mi fate male non cede le api perché quando poi vi mordono loro muoiono non mi sembra il caso di ucciderne in più cosa molto importante perché purtroppo c'è una malattia che si chiama varroa spero di averlo detto giusto c'è una rete apposta da mettere sotto le api possono camminarci sopra e quando fate i trattamenti questi parassiti cadono e in più permette la reazione all'interno dell'alveare il ragazzo molto gentile dove ho comprato l'attrezzatura vedete che un problema qua in puglia l'umidità quindi non dobbiamo far sì che ci sia condensa all'interno dell'alveare e poi dipende dove vivete si fa freddo si fa più caldo quindi dovete informarmi se avete qualche amico qualche di uno per fare due domande che lo fa per lavoro sa che non gli urbate il lavoro la gente appassionata sicuramente vi dà qualche consiglio poi essendo la mia arnia da osservazione perché lo faccio più per divertimento per farvi vedere a voi anche cosa capita all'interno dell'arnia ho preso tre porta foto che utilizzerò come finestre per il mio alveare una dietro e due laterali davanti non conviene mai metterla perché le api se vi mettete davanti al passaggio dove escono le disturbate e in più se si storgono vi attaccano e attaccano non vi preoccupate che mordono quindi mi sembra di avere tutto tutto con la vinica quella più naturale possibile se poi decidiamo di colorarlo anche lì tutti i colori naturali all'acqua meno roba chimica c'è meglio stanno le nostre api adesso io vado a smontare il pallet e man mano che faceva i pezzi ve li faccio vedere spero di aver elencato tutto se no man mano che vado avanti nel video vi farò vedere sicuramente mi ripeterò perché ci metterò tempo per il video su bombacello andiamo avanti che già tardi e che quindi che che Bene, questa è la parte frontale, questa è la porta dove poi passeranno le api. Questa è la parte dietro, dove poi andrò a montare il vetrino, così si può vedere all'interno. Questa porticina qua sotto che vedete a voi non serve, io l'ho fatta perché sarà l'ingresso per cercare di catturare le api. E poi con un pezzo di legno è andata a parla, ma questo lo vediamo poi. E qui è un laterale, questo è il laterale. E qui andrà poi montata la finestra, così riusciamo a vedere dentro. Adesso faccio ancora l'altro laterale, metto i pezzi assieme e una volta montati sicuramente sarà più facile da capire le dimensioni. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a noi. Grazie a tutti. interna è sempre la più importante, quindi la parte interna dal fondo a dove appoggiano i nostri telai è praticamente un po' più di 31 centimetri e mezzo, quindi poi il nostro telaio, voi sicuramente da lì non so se lo vedete, spostiamo il telaio un po' più in là, magari riesco a farvelo vedere, sì, il nostro telaio da terra sarà 2 centimetri, quasi 3, quindi perfetto, così la famiglia ha il suo spazio all'interno, perché come avete visto è piccola casetta, poi dopo se l'alveare cresce, la famiglia cresce, bisogna prendere una casa più grande come con le persone, quindi altezza dal fondo abbiamo detto, scusate sono già dimenticato, 31,8 mentre la larghezza interna è 23,6. Bene, ci rivediamo quando la nostra arnia è praticamente finita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Come avete visto ho montato la finestra, la prima, ve ne faccio vedere solo una, io come cornice interna ho utilizzato i pezzi di una cassetta, tra l'altro vecchia, quindi il legno è stagionato, me l'ha data qua il vicino di casa che ne ha diverse buttate lì, così lo spessore è minimo e la finestra è ferma. Poi ho montato la rete sotto, adesso andrò a colorare il sotto e il fianco e davanti ho montato la porticina. Naturalmente questo non si colora che è la pista ad atterraggio delle api e ho preparato anche la struttura per il tetto che andrà a appoggiarsi qui, naturalmente non è mai in quadro quando utilizzate legno di recupero così è sempre un macello. E poi infatti per il coperchio comprerò un pezzo di compensato perché deve essere in piano, deve chiudere bene. Se lo fate con le assi, le assi non sono mai in quadro perché sono le assi dei pallet, quindi ho già detto tutto. Bene, ci vediamo quando ho finito di montare le finestre e di colorare per il montaggio finale con tutti i pezzi all'interno. Non viudrai far faloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle torbando al riposo, narcisettua dolcino d'amor. Delle belle torbando al riposo, narcisettua dolcino d'amor. E voilà, la nostra casetta è pronta, ho montato anche la tettoina davanti, il tetto è finito. Allora per il tetto vi consiglio di farmi una diva, un modello per riuscire a inchiodare le tavole nella maniera corretta. Poi io utilizzando il pallet, loro sono tutte un po' svirgolate. Comunque, io adesso ho fatto la casetta, per tutte le misure dettagliate vi metto il link, il descrizione, l'articolo che scriverà l'uomo di casa. L'uomo di casa si occupa più di fai da te, quindi sicuramente saprà darvi le direttive giuste per come realizzarla con le misure perfette che gli darò io. Lui anche dà i consigli sulle vernici, su che tipo di legno utilizzare, quando fate i lavori, quindi sicuramente farà un articolo che è uno spettacolo. Lo trovate qui sotto in descrizione. Adesso la casa è pronta. Dentro si mettono i telaini così. Tra l'altro dopo vi faccio vedere come farne uno, ma vi conviene sempre comprarlo. coperchio da mettere sopra. Questo l'ho dovuta comprare perché quelle erano troppo sbilenche. Tetto finale. E poi il tocco personalizzato. Le finestre funzionano, che è uno spettacolo. Allora, prima di parlare del telaino, che vi conviene comprare, già fatto, costa meno di un euro l'uno, 60, 70, 80 centesimi, già con il filo predisposto. Voglio ringraziare Vito, del Migiano Garden Center. Grazie Vito, perché mi ha dato un po' di consigli, un po' di assistenza. Se gli fate delle domande è gentilissimo. Grazie. Veramente. Molto gentile. Grazie di tutto. Lui è esperto di api. Ha il sito per comprare l'attrezzatura. Quindi se volete dare un'occhiata, trovate il link sotto qui nella descrizione. È un negozio di giardinaggio, è un vivaio. Quindi trovate non solo la roba per le api, ma anche per altri animali. Quindi date un'occhiata. Lui vende anche online. Io adesso ho fatto l'alveare così. Voi volendo potete comprare quello che costa, mi sembra, 60, 70 euro e farvi le modifiche se volete vedere all'interno. Altrimenti non è necessario. Io lo faccio solo per il canale. Perché, come mi ha consigliato lui, le api amano stare al buio. Quindi se fate le finestre dovete poi farle bene, devono essere belle chiuse, che non deve entrare la luce, altrimenti le api vengono infastidite. Bene, vediamo come farne uno di questi così giusto per amore della conversazione, anche se questo è soltanto un video. Bene, vediamo. Naturalmente non è perfetto, ma per il nostro fai da te, diciamo, può andare. Se li comprate già fatti è meglio, come già vi dicevo. Perché si va a mettere il ferro? Perché poi quando andiamo a muovere i nostri telaini, che sono pieni di miele, c'è il rischio che si spezza il favo e cadono le api, il miele, un macello. Invece il filo fa da rinforzo. In realtà, se lasciamo i nostri favi all'interno, i nostri telaini senza mai toccarli, non ci dovrebbe essere la necessità, perché le api fanno i loro favi in maniera perfetta. Bene, mi raccomando, cliccate sulla campanella sotto, perché nel prossimo video vedremo se ho convinto le api ad entrare. Ah, naturalmente, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi sotto qui nel canale. Se avete esperienza con le api, i commenti sotto sono sempre ben accetti, non soltanto per me, che faccio le cose sempre un po' così da poco esperto, ma anche per tutti coloro che seguono il canale. Ciao ciao! Ci rivediamo con le mie nuove api. Ci rivediamo con le mie nuove.